Salve a tutti, adesso su per giù cercheremo di fare le previsioni astrologiche per tutto il mese di febbraio per i 12 segni. Partiremo con il segno dell'Ariete, tutta la prima parte del mese vi vede assolutamente sostenuti sia nelle relazioni umane che nelle amicizie e aiutati anche nel risolvere delle prove nella vita, quelle che vi verranno per il periodo del mese di febbraio e per quanto riguarda questioni economiche, affari, tutte le situazioni che girano intorno a questo, anche in questo senso avrete molte agevolazioni. Per il resto il trend è quello che siete in piena evoluzione e che la vostra energia è in piena riscoperta. Il segno del toro vivrà tutta una fase fino a sempre metà mese, diciamo in cui sebbene di fondo va tutto benissimo sia dal punto di vista degli affetti, economico, lavoro, diciamo un attimo però di confusione, invece dalla seconda parte in poi sarete particolarmente armoniosi. Vi rimane comunque di fondo anche sia per il mese di febbraio che per i prossimi mesi un periodo di rinnovamento della vostra, del modo in cui vi manifestate all'esterno. Andiamo al segno dei gemelli, tutta la prima metà del mese è molto positiva, poi ci potrebbero essere alcune difficoltà forse nell'ambito relazionale, rimane di fondo una vostra maggiore serietà nell'affrontare la questione affettiva e dovreste comunque cercare di accettare maggiormente di buon grado le prove che vi vengono dalla casa, da casa vostra, gli effetti, i sentimenti di quelli proprio casalinghi. Per il resto siete con il vento in poppa per le evoluzioni e le amicizie nell'ambito sia del lavoro che dei vostri progetti personali. Cancro. La prima parte del mese vi vede in realtà un po' misteriosi, in quanto sarete dediti a tutta quella parte inconscia della vostra natura. Voi che siete così sentimentali ed emotivi vi renderete conto di alcuni aspetti del vostro carattere che in genere tendete a rendere nascosti fino anche a voi stessi. Dopodiché invece la seconda parte del mese vi vede molto più aperti e disponibili verso l'esterno in maniera totale e assoluta, anche perché di fondo avete Marte che vi aiuta veramente nella comunicazione e nei rapporti umani. Tutti i cambiamenti nell'ambito del lavoro e nelle questioni economiche sono veramente ben aspettati per trovare nuove risoluzioni innovative nelle quali sarete sganciati dalle angosce familiari. Andiamo al segno del leone. Il segno del leone per tutta la prima parte del mese, probabilmente sebbene di fondo le cose ancora vanno benissimo, ma andranno abbastanza bene per tutto l'anno, è in una fase non esattamente conflittuale, ma di confronto con se stesso e forse con zone oscure di se stesso. Va sempre molto bene la combattività nell'ambito della realizzazione di progetti sia da condividere che abbiano a che fare semplicemente con le proprie necessità e le proprie finanze. Il vostro desiderio di evolvervi e cambiare delle cose nell'ambito del lavoro è stimolato, troverà delle risoluzioni, ma non è così facile da realizzare. Vergine, dunque la comunicazione è concentrata soprattutto nell'ambito di lavoro e lì ci sarà la capacità di rivedere e riorganizzare le situazioni. Per quanto riguarda l'amore, la prima settimana di febbraio sarà un poco più movimentata, mentre invece poi le cose si rimetteranno in sesso con l'inizio di una nuova fase, anche da un punto di vista prettamente erotico, direi. Grandissima energia che continua a sostenervi e attenzione alla prima decada e soprattutto per la prima settimana. Bilancia Tutta la prima parte del mese è assolutamente positiva nei confronti della comunicazione, dell'incontro con nuove amicizie, da un punto di vista creativo e sarete anche supportati da un punto di vista della cura, della vostra bellezza, della vostra forma fisica. Già che comunque la terza decada continua a vivere un momento di revisione della propria vita e delle relazioni in assoluto, ci sarà anche un'armonia, sempre alla seconda metà del mese, diciamo dopo la prima settimana di febbraio, che vi permetterà di essere più presenti anche nella questione relazioni e di trovare una maggiore verve. Io vi raccomando sempre per tutto l'anno e per un bel po' di tempo a venire di non lasciarvi andare a dei divertimenti eccessivamente licenziosi perché potrebbero fare male alla vostra salute. Andiamo al segno dello scorpione, prima parte del mese che non è necessariamente male perché da un lato siete molto stimolati nell'incontro col partner e anche nell'avere per chi è da solo nuovi amori o scegliere di trovare un equilibrio maggiore nell'ambito del rapporto di coppia. Dall'altro lato sarete stimolati probabilmente a manifestarvi in maniera particolare nell'ambito delle relazioni, forse anche discutendo di alcuni aspetti ma poi trovando invece nell'arco del mese delle armonizzazioni anche nell'ambito della comunicazione. Il vostro desiderio di trovare un modo più profondo di esprimervi nell'ambito della coppia può essere leggermente ostacolato ma poi invece troverà una risoluzione. Andiamo al segno del sagittario, sicuramente questo mese vede il segno del sagittario facilitato innanzitutto nelle relazioni umane, nuove conoscenze, anche proprio un'evoluzione da un punto di vista mentale. La prima parte del mese pone qualche problema da un punto di vista emotivo e possibilmente magari proprio nell'ambito della relazione affettiva ma non in maniera particolare anche perché è proprio la prima settimana. Invece superata la prima settimana di febbraio le cose risalgono, vanno molto bene, ci sarà moltissima energia e anche tanto buon umore. Nell'ambito del lavoro c'è anche in questo caso molta energia da spendere per realizzare dei progetti e dall'altro lato ci potrebbero essere delle discussioni per riuscire a mettersi d'accordo su come realizzare le cose che volete realizzare, ma in linea di massima si rimane supportati sia per quanto riguarda le relazioni sia per quanto portare a termine in definitiva i propri obiettivi. Capricorno Tutta la prima parte del mese vi vede impegnati nella comprensione e risoluzione di possibili affari da portare a termine in campo economico e da un punto di vista della crescita e maggiore comprensione dei vostri obiettivi siete assolutamente supportati e per quanto riguarda i sentimenti o meglio gli aspetti primari ci saranno delle questioni da risolvere in famiglia ma che non saranno poi così difficili o pesanti, non ci saranno grosse difficoltà nel doverli risolvere. Insomma febbraio in definitiva vi vede pronti ad affrontare qualsiasi nuova situazione in maniera assolutamente pronta e disponibile. Acquario Ovviamente fino alla metà del mese il segno dell'acquario è totalmente supportato sia dal sole che da mercurio. Poi in qualche modo le cose cambiano. Dal punto di vista dei sentimenti o meglio degli affetti ci sarà una certa capacità di comunicazione nell'ambito diciamo più vicino e circostante e allo stesso tempo delle questioni familiari che prenderanno buona parte della vostra energia. Forse ci sarà il desiderio da parte vostra di cercare di rinnovare o cambiare le questioni nell'ambito degli affetti familiari ma in definitiva sarete disponibili e generosamente pronti a redimere qualsiasi situazione. D'altronde verranno nei prossimi mesi tutto questo cambierà e arriverà un'area nuova di maggiore indipendenza. Andiamo al segno dei pesci. Siete sempre supportati nell'ambito delle relazioni sicuramente sebbene voi vorreste forse riuscire a manifestare una vostra indipendenza filosa anche intellettuale malgrado il fatto che i pesci sia un segno fondamentalmente di natura emotiva però forse in questo momento vorrebbe ristabilire nuove radici per il proprio modo di discutere nell'ambito circostante. Questo avverrà in seguito già che adesso bisogna cercare di risolvere in ogni caso i problemi che sorgono con il partner da un lato e dall'altro anche degli aiuti e delle nuove situazioni in campo economico con delle idee geniali devo dire di tanto in tanto che vi permetteranno di avere un quadro generale da un lato più disteso e dall'altro più creativo per poter riorganizzarvi in futuro. Vi auguro una buona visione e ci vediamo il prossimo mese. Ciao!